buonasera a tutti benvenuti a questa nuova settimana nuovo appuntamento con la sica italia web academy tra l'altro in questa versione pomeridiana tardo pomeridiana diciamo così visto che fino a settimana scorsa abbiamo tenuti tenuto questi webinar della sica italia web academy di mattina questa è una versione chiamiamola che ci che ci porta all'estate definiamola così infatti andremo fino a fine giugno avanti con un programma appunto di questa di questa web academy che si terrà a questo orario del mercoledì pomeriggio vedo che siete in molti quindi l'appello che avevo fatto la scorsa settimana di seguirci a questo nuovo orario è stato recepito e quindi sono molto felice di questa cosa tra l'altro stanno già arrivando delle domande sull'argomento di oggi quindi credo che sia proprio effettivamente è caldo un po come come tematica spendo giusto qualche parola ovviamente per i nuovi che ci stanno seguendo anche in virtù di questo cambio di orario magari abbiamo dei professionisti che sono un po più inclini a seguirci nel pomeriggio rispetto alla mattina e quindi la prima volta che seguono questa sica italia web academy allora io innanzitutto sono marco pagano sono di edicom edizioni edi come 20 e vi farò compagnia come moderatore di questo appuntamento però qua con me c'è federico moroni che intanto saluto e che ormai è un veterano della della nostra dei nostri appuntamenti in webinar sì che italia web academy dicevo è un progetto che stiamo portando avanti ormai da fine marzo con appuntamenti a cadenza settimanale in cui siamo un pochino andati ad analizzare diverse tematiche inerenti un pochino il mondo del ripristino della ristrutturazione ci siamo spostati diciamo dall'ambito residenziale all'ambito del terziario ai ponti e viadotti ne abbiamo analizzato un po diverse di tematiche quindi anche molto specialistiche lo stesso faremo appunto nelle prossime nelle prossime settimane oggi analizziamo una tematica che effettivamente definirla di attualità è quasi un eufemismo perché di attualità purtroppo da diverso tempo e ci sono state anche problematiche le abbiamo viste in scuole ma le vediamo anche a livello residenziale molto importanti chiaramente lo sapete già perché ovviamente vi siete iscritti a questo webinar apposta è la tematica del dello sfondellamento dei solai quindi parliamo di sicurezza indoor andiamo ad analizzare la tematica ma andiamo anche a cercare di capire quali sono le soluzioni più idonee come poter intervenire per mettere in sicurezza per l'appunto un solaio prima di lasciare la parola a federico moroni che ci introdurrà alla tematica visto che tra ieri e oggi fortunatamente sono entrati in gazzetta alcune tematiche che potrebbero riguardare tutti voi e tutti noi quindi molto inerenti il tema del della riqualificazione del patrimonio edilizio in termini di efficientamento energetico ma anche in termini di sisma bonus con delle degli incentivi diciamo abbastanza importanti io chiedo a federico che prima ci farà la sua presentazione con di chiesica italia cosa che facciamo sempre ma poi gli chiedo già di risponderci a questa domanda se questi interventi sullo sull'anti sfondellamento quindi di messa in sicurezza del solaio in qualche modo rientrano nel sisma bonus 2020 intanto che ci ragiona magari un attimino sulla sulla domanda vi spiego come funziona la diretta di oggi noi abbiamo un'oretta che poi solitamente si protrae anche per qualche minuto in più in cui faremo appunto una presentazione ma non sarà semplicemente una lezione uno a molti tenuta dal nostro federico moroni da qua in avanti federico ma sarà interattiva nel senso che come molti di voi stanno già facendo c'è la possibilità attraverso il pannellino di go to webinar che vedete sulla destra del vostro schermo attraverso il campo chat domande di interagire con noi facendo delle domande in maniera scritta sarà mio compito raccoglierle interrompere il nostro federico per per dare risposta ed eventualmente tenere anche qualcosa per il termine di questa di questa diretta laddove non riuscissimo a comunque rispondere in diretta a tutte le domande sicca italia nei prossimi giorni darà risposta scritta quindi riceverete via mail la risposta scritta di queste a quale domande che avete fatto fondamentalmente altra cosa molto importante e poi chiudo questa presentazione che riceverete via posta elettronica a distanza di un paio d'ore dalla chiusura di questa diretta sono le slide quindi molti ce le ce le richiedono durante appunto questi appuntamenti le mettiamo a disposizione così che possiate andare ad approfondire anche nella tranquillità del vostro studio a casa le tematiche che abbiamo trattato non mi dilungo oltre lascio la parola a federico chiedendogli appunto se prima di presentare questa tematica ci può illustrare se questa soluzione rientra nel sisma bonus 2020 prego federico ciao marco grazie per l'introduzione sì ho giusto inserito un paio di slide per dire due cose a riguardo del sisma bonus e soprattutto di questo aggiornamento che c'è stato appunto così imminente in questi giorni mi presento brevemente io sono federico moroni sono ingegnere lavoro per sicca dal 2015 faccio parte del servizio tecnico sono il referente tecnico per quanto riguarda i sistemi di rinforzo strutturale quindi i sistemi in carbonio principalmente e il ripristino e la protezione del calcestruzzo qualcuno sicuramente avrà già seguito ad esempio il corso ponti in cui abbiamo parlato appunto di quelle di quelle problematiche lì oggi oggi siamo a parlare di antisfondellamento faccio brevissimamente un'introduzione di chi è sicca e di quello che è quello che facciamo anche se sicuramente molti di voi sicuramente l'hanno già l'hanno già visto lasciamo nel 1910 abbiamo sede a zurigo in svizzera sicana multinazionale quindi è suddivisa poi in sedi locali la sede locale italiana nasce nel 1932 a como inizialmente nel 1960 abbiamo la divisione lavori quindi per un certo periodo oltre a essere fornitori facevamo anche applicazioni dirette nel 1980 circa è nata la divisione industria in cui adesso siamo leader di mercato per quanto riguarda l'automotive ad esempio piuttosto che il settore della marina e di recente ci sono state a partire dal 2006 che non arrivare alle alle più recenti delle delle acquisizioni che il gruppo sic ha fatto e ovviamente la più conosciuta è quella che è stata fatta nel 2018 di index e direttamente anche l'acquisizione del gruppo parex che è una multinazionale francese molto attiva per quello che sono le i prodotti per le finiture ad esempio e colle per piastrelle sicca italia ha un fatturato ha fatto l'anno scorso un fatturato di circa 210 milioni di euro a livello mondiale sicca fattura circa un 8 miliardi di franchi svizzeri e siamo in italia circa 350 dipendenti nel mondo all'incirca 18 mila siamo suddivisi in otto target market otto settori di appartenenza che li potete vedere qua illustrati nello specifico oggi noi parleremo del refurbishment che è il target market che comprende tutte quelle che sono i prodotti e le soluzioni per il ripristino il recupero quindi interventi per il miglioramento e l'adeguamento di edifici o infrastrutture esistenti appunto come già anticipato brevemente marco grazie facciamo giusto due parole su quello che è appunto il recentissimo ehm aggiornamento del sisma bonus perché è il decreto rilancio che è proprio a questione di questi giorni addirittura mi pare che sia entrato in gazzetta oggi ehm ha esteso la detrazione fiscale a a una quota del centodieci per cento dell'intervento di eh di ripristino quindi oltre all'efficientamento energetico abbiamo anche la riduzione del rischio sismico quindi il sisma bonus eh che prevede quindi il centodieci per cento e per per gli interventi a partire dal primo luglio 2020 fino a dicembre 2021 per ora ehm la cosa fondamentale oltre appunto a questa quota che è eh incredibilmente alta ehm superiore addirittura al costo del dei lavori di edeguamento c'è una nuova una novità che forse è ancora più interessante che riguarda la 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 cessione del credito sicuramente molti di voi già sono informati a riguardo di conseguenza invece che eh per quanto riguarda la la committenza invece che ehm dover pagare e ricevere poi la ehm ricevere poi il l'importo sostenuto sfruttando le dichiarazioni dei redditi degli anni successivi eh tramite appunto con la cessione del del credito il si può cedere il credito a un istituto eh finanziario ad esempio piuttosto che all'impresa stessa che poi se lo gestisce direttamente col fisco sostanzialmente il committente non deve più tirar fuori eh i soldi quindi non deve più avere la liquidità e non deve più anticipare sicuramente è qualcosa di molto importante poi non è il mio settore il settore finanziario però è abbastanza banale eh capire che in questo momento ovviamente la liquidità è un problema e di conseguenza questo può essere se poi definito bene nel dettaglio perché dovrà essere se poi ancora ben definito può essere un bello strumento per riattivare una parte del dell'edilizia e anche del settore delle costruzioni in generale. Per quanto riguarda SICA i sistemi che sostanzialmente che sono inclusi praticamente negli interventi che sono previsti dal Sisma Bonus sono per quanto riguarda il rinforzo di struttura in calcestruzzo ehm abbiamo i sistemi in FRP quindi dotati attualmente già dotati di 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 CVT sistemi FRP che per SICA significa matrice possidica e eh fibra lunga in carbonio eh in questo caso abbiamo due famiglie di prodotti SICA Carbodur che sono le lamine principalmente quindi sistemi preformati e SICA VRAP che sono invece gli impegnati in situ. ehm altro ambito ovviamente è il rinforzo strutturale di murature quindi nel momento in cui stiamo parlando di adeguamento sismico ehm abbiamo anche ovviamente gli edifici a muratura portante in questo caso qua SICA ha a disposizione un sistema FRCM ehm il quale è sotto in cui lo stiamo certificando ehm lo stiamo certificando per ottenere le CVT che sarà poi obbligatorio se se nulla cambia da gennaio 2021 quindi da gennaio 2021 anche i sistemi FRCM quindi parliamo di sistemi con ehm compositi a fibra eh fibro rinforzati a matrice cementizia ehm in questo caso qua abbiamo un sistema con una malta cementizia una rete in fibra di vetro alcali resistente e dei connettori eh in fibra di vetro mh con questo sistema qua si può fare anche il l'antiribaltamento dei tamponamenti e eh che è comunque all'interno del di quelli che sono gli interventi previsti per il sisma bonus in quanto è ehm presidio di sicurezza in caso di di incendio e di di sisma e anche la messa in sicurezza di solai quindi l'antisfondellamento appunto proprio il sistema SICA safe che adesso andiamo a vedere. Eccoci qua sistema SICA safe quindi la la breve introduzione proprio giusto due parole su quelle che sono appunto le parti salienti e come SICA può anche venire incontro a dare a fornire delle soluzioni dei sistemi ehm idonei all'adeguamento sismico. SICA safe è appunto il sistema di SICA per l'antisponderamento contro contro l'antisponderamento dei solai è stato introdotto a a inizio anno quindi veramente molto molto fresco ehm nello sviluppo di questo sistema abbiamo avuto la possibilità di eh diciamo guardarci un po' in giro e capire quelle che erano le soluzioni più eh funzionali che già c'erano eh sul mercato e quindi di conseguenza mh sfruttare quelle che erano le informazioni già disponibili per progettare un sistema che sia prima di tutto versatile eh economicamente sostenibile ma sicuramente in primo luogo sicuro. Il fenomeno dello sfondellamento lo conosciamo benissimo già tutti mi soffermerò giusto proprio brevemente ehm per dare un paio di nozioni che mi che mi interessa dare eh ovviamente lo sfondellamento come da 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 nome significa che comunque ci deve essere un fondello di 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 un elemento in 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 laterizio che si distacca quindi tendenzialmente dovuto a problematiche di ehm legate appunto proprio all'elemento in in laterizio utilizzato per il l'alleggerimento del solaio anche se spesso e volentieri oltre alla ehm al meccanismo dello sfondellamento vero e proprio andiamo a considerare in questo tipo di eh di rotture anche il distacco dell'intonaco perché comunque alla fine ha sostanzialmente le stesse problematiche eh e viene anche diciamo ehm curato con con le stesse soluzioni ehm lo sfondellamento riguarda principalmente ehm principalmente il solano e il latero cemento costruiti tra gli anni 40 agli anni 70 principalmente perché poi riguarda anche quelli successivi eh in quest'anno qua in questi anni qua c'è stato il boom economico di conseguenza il controllo eh della qualità dei materiali era molto basso si tendeva a fare grosse quantità senza grossi controlli e anche in cantiere eh non c'erano tutti i sistemi di controllo che che abbiamo oggi mh il crollo il crollo del dello sfondellamento può portare a un carico da sfondellamento che è molto variabile dipende molto può andare da circa per dare un'idea di grandezza ma potremmo avere anche numeri che escono da questo del da questo questa forbice intorno ai 35-75 chili al al metro quadrato ma anche potremmo arrivare anche intorno ai 90 eh a seconda appunto del dello spessore dell'intonaco del tipo di materiale se c'è anche uno sfondellamento un un'espulsione del copriferro del del travetto e eccetera ehm è abbastanza diffuso sul territorio italiano abbastanza non ci sono particolari zone estremamente soggette siamo tutti un po' diciamo purtroppo soggetti a questo tipo di a questo tipo di problematica il problema ovviamente come come già ben sappiamo non è un problema in tipo strutturale ma è un problema di eh sicurezza e di incolumità delle persone che che stanno all'interno dell'ambiente in quanto nel momento in cui avviene il collasso non eh non ci sono dei segnali premonitori che ci possano far presagire il l'avvenimento appunto del crollo quindi di conseguenza ehm può essere anche se stiamo parlando di carichi relativamente bassi per quello che è dei carichi strutturali normalmente ehm è comunque sono comunque dei carichi che possono ehm ledere l'incolumità delle delle persone all'interno del dell'ambiente SICA quindi la prima cosa che ha voluto diciamo mettere come pietra miliare è la sicurezza quindi in primo luogo il il sistema deve doveva essere sicuro infatti ci siamo affidati al Politecnico di Milano per fare la campagna di prove ehm sul sistema a noi piace collaborare con con quelli che sono appunto ehm gli enti di ricerca come può essere un Politecnico di Milano definendo insieme a loro quelli che possono essere anche diciamo eh i metodi di prova senza imporre per forza un metodo definito da noi ehm e il nome è stato scelto appunto safe in in inglese significa proprio sicuro e tra l'altro nella Treccani questa va beh una stupidata che abbiamo inserito in più eh nella nella Treccani si trova proprio eh all'interno della definizione di sicuro eh di luogo dove si può stare può passare senza correre rischi o di luogo in cui si può riporre o conservare cosa preziosa senza pericolo ecco questo è proprio sicuramente il innesso il principale l'obiettivo principale ehm il sistema SicaSafe si divide in due tipi un sistema a secco SicaSafe R R sta per rete e un sistema a eh invece con malta quindi RM eh sistema quindi rete e malta quindi di conseguenza abbiamo la possibilità di scegliere quindi la versata abbiamo prima di tutto la versatilità di poter scegliere due sistemi uno ovviamente più economico e uno invece più prestazionale che mi permette anche di ottenere una una finitura ehm del sistema liscio diciamo ehm SicaSafe R è composto da una una rete SicaVrap 350G grid una rete in fibra di vetro e dei dei fissaggi meccanici invece SicaSafe R M appunto è composto dalla stessa rete ehm che è una rete da 350 grammi al metro quadro e una malta che è Sica Mono Top 722 Moore che è la malta che noi utilizziamo per i nostri sistemi FRCM quindi è una malta strutturale ad elevatissime prestazioni e come potete notare in questa anche nella seconda anche nel sistema SicaSafe R M abbiamo sempre i fissaggi meccanici la nostra filosofia è l'unico eh è di mettere comunque sempre i fissaggi meccanici in ogni caso nonostante vedrete le prestazioni sono veramente molto elevate e in quanto è diciamo l'unico l'unico ancora di salvezza voglio dire nel senso mi spiego meglio è l'unico modo per andare diciamo ad aggrapparsi a qualcosa di solido è riuscire andare ad attaccarsi o al nucleo del calcestruzzo o alla cappa armata lì sopra del del solaio quindi di conseguenza per noi ancora il sistema di fissaggio meccanico è fondamentale. Scusa Federico prima di andare oltre però visto che stai presentando due sistemi che hanno uno a secco diciamo e uno con malta riassumi bene qual è la differenza quando è meglio usare un sistema e quando è meglio usare l'altro? Allora il sistema a secco è un sistema che sicuramente ha una finitura che non può essere lasciata vista esteticamente quindi di conseguenza è previsto in caso in cui io devo andare a mettere magari non so una contro soffittatura ho previsto una contro soffittatura standard quindi non anti sfondellamento e però ho il problema di sfondellamento quindi mi metto e faccio il sistema a secco oppure può essere anche utilizzato in ambienti in cui non mi interessa l'aspetto estetico della finitura. Per quanto riguarda invece il sistema RM lo utilizzo in tutti gli ambienti in cui ho bisogno di avere una finitura civile quindi sostanzialmente lo utilizzo come se fosse una sorta di intonaco armato in primo luogo quindi questo è principalmente la differenza di questi due sistemi. Grazie per almeno... 722 MUR è una malta appunto come dicevo di tipo strutturale ha ben tre marcature CE adesso non ci soffermiamo su queste cose qua però è una malta da ripristino in classe R2 da ripristino del calcestruzzo è una malta da muratura in classe M20 secondo la 998 parte 2 ed è anche una malta da intonaco quindi anche la marcatura CE come in classe GP CS4 che è tra l'altro la più alta possibile in termini di resistenza compressione quindi a queste 33 marcature perché è importante avere anche la una marcatura CE il fatto di avere una marcatura CE come malta di ripristino del calcestruzzo mi dà delle indicazioni sul fatto che di quelle che possono essere le adesioni che posso avere sul calcestruzzo dato che nello specifico questo sistema io spesso volentieri mi posso trovare ad avere dei supporti molto porosi quindi eh l'aterizio piuttosto che in alcune zone posso avere anche direttamente l'adesione sul 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 travetto di 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 calcestruzzo quindi il fatto di avere una malta da muratura che normalmente è pensata per essere applicata sull'aterizio che è però anche marcata CE come malta da ripristino appunto mi dà diciamo una globalità di informazioni di adesione sui vari sistemi che mi posso sui vari materiali che mi posso trovare è molto più completa le caratteristiche per cui è stata scelta questa malta qua oltre appunto alle sue prestazioni è il fatto di avere un'elevatissima tixotropia quindi la capacità di essere stesa in modo semplice ma di non colare sostanzialmente che la rende molto idonea per l'utilizzo sopratesta ovviamente l'applicazione sopratesta per il sistema antisfondellamento è la prima e più grossa difficoltà applicativa quindi è fondamentale avere dei prodotti che mi agevolino il più possibile l'applicazione elevata adesione su vari tipi di materiali ne abbiamo già parlato questa malta qua può essere anche finita a frattazzo quindi se io non ho bisogno di una finitura a civile particolarmente fine è una malta grigia perché è una malta base cemento portland normale però se io posso anche permettermi di finirla frattazzo e di lasciarla finita così quindi poterci anche pitturare direttamente sopra senza dover andare a mettere per forza una finitura e poi fibro rimbozzata con fibre lunghe per ora questo me lo tengo lì perché poi ne parliamo dopo lo vediamo nei risultati del Politecnico cosa significa avere delle fibre lunghe all'interno e quali aspetti positivi mi porta la rete la 350 g grid anch'essa è stata scelta per agevolare il più possibile l'applicazione quindi è una rete abbastanza leggera rispetto diciamo alla media possiamo trovare sul mercato perché è solo un 350 grammi è comunque una rete di tipo strutturale in vetro e e appunto abbiamo delle giusto per dare un paio di numeri abbiamo delle resistenze per un metro di ordito nella direzione del svolgimento del rotolo che arrivano a 77 chilonewton al metro quindi comunque stiamo parlando non di una rete porta in tonaco stiamo parlando di una rete strutturale e anche a un'elevata stabilità trama del nodo perché poi vediamo il motivo per cui è fondamentale che si utilizzi una rete di questo tipo quindi sistema Sica 6 ferre parliamo vediamo brevemente quello come si compone il sistema nudo sistema secco quindi andiamo sostanzialmente ad applicare qua vediamo il nostro il nostro solaio su cui vado applicare direttamente la rete e la tassello con il sistema di fissaggio meccanico questo è poi quello che ottengo quindi questa qua è poi la finitura che io ho di conseguenza appunto deve essere previsto o non mi interessa aspetto estetico oppure deve essere previsto un sistema di controsoffittatura per quanto riguarda invece il sistema rm quindi quello con rete malta noi abbiamo la possibilità di fare due sistemi diversi uno che lo possiamo chiamare sistema rm 1 è sostanzialmente uguale nella prima fase al sistema r quindi vado ad applicare la rete come se fosse un sistema secco e vado a mettere la malta solo una volta applicata la rete quindi permettiamo di andare a fare una lavorazione di questo tipo che mi ovviamente richiede il fatto di dover schiacciare molto bene la malta ovviamente per farla passare attraverso la rete e farla aderire a supporto perché di per sé il sistema è testato anche nudo quindi a livello di capacità portante lo vedremo poi dopo il sistema nudo è già sufficiente però ho bisogno di una malta che abbia un'elevatissima adesione perché appunto con questo tipo di applicazione qua ho ridotto lo spazio disponibile alla malta per andare ad aderire al supporto e se avesse una malta debole un calcestruzzo un intonaco normale standard il rischio è che avrei il distacco del intonaco dal supporto con possibilità di formazione di cavillature cosa che invece riusciamo a evitare con questa malta dato le sue performance di adesione e il fatto e quindi queste performance qua ci permettono anche di utilizzarla diciamo in spessori molto più bassi rispetto a quello che potrebbe essere un intonaco normale e poi c'è il sistema rm2 che invece è praticamente un sistema frcm nella pratica di conseguenza si va a mettere la malta direttamente sul supporto si va a negare la rete all'interno della della prima mano di malta si fa il fissaggio anche a malta indurita ad esempio in modo da poter lavorare in modo pulito e poi si va a rifinire con con la seconda mano di malta questo mi permette di ottenere una appunto di finire la mia superficie liscia come pronta poi per una rasatura piuttosto che frattazzata direttamente scusami anche in questo caso qua visto che stai presentando comunque due sistemi diciamo alternativi abbiamo capito la differenza di quando a secco quando con malta all'interno di questo con malta quando utilizzo questo con con questa doppia diciamo applicazione a malta e quando utilizzo il sistema se non sbaglio rm quindi con un'applicazione solo di malta quali sono i vantaggi di utilizzare questo fondamentalmente certamente allora i vantaggi sono sicuramente sono due due vantaggi uno a livello di performance che ovviamente in questo caso qua un sistema con delle performance estremamente elevate due anche applicativo perché se da un lato devo andare a fissare la mia rete la fase di posa della rete da un certo da un lato col sistema a secco ma anche col sistema rm1 devo andare a tassellare contestualmente l'applicazione della rete devo andare a tassellare in questo caso qua invece ho già la mia malta fresca sul supporto quindi la rete la inglobo con una semplice passata di spatola diventa molto più semplice più veloce da applicare evitando anche in modo molto più semplice eventuali imbarcamenti della rete stessa può essere anche che ho bisogno diciamo di andare un po' a rinforzare il mio fondello della pignatta ad esempio poi adesso vedremo anche quelli che sono i vari fissaggi meccanici disponibili ma abbiamo dei fissaggi meccanici che possono passare attraverso la pignatta e andare appunto ad ancorarsi alla caldana armata alla cappa armata in questo caso qua può essere necessario andare un po' a rinforzare quello che è il fondello della pignatta prima di fare l'ancoraggio e di conseguenza in questo modo qua io ho la possibilità appunto ho la possibilità di coprire tutte le possibili applicazioni e di andare a rinforzare appunto in precedenza il fondello della pignatta per poi fare i miei ancora per fare i miei fissaggi meccanici in sicurezza tra l'altro una domanda che è arrivata ne stanno arrivando tantissime te lo anticipo già quindi sono già in difficoltà anch'io a catalogarli ma voi mandate e ci lavoro un attimino su prima di farlo allora ci chiedevano perché il tema lo stai affrontando adesso se ho uno spondellamento diciamo che si crea una parte di vuoto nella nella pignatta ci chiedevano per l'appunto come andare a colmare quella parte di vuoto adesso lo vediamo allora per colmare quel vuoto lì comunque lo vediamo perché ho un paio di slide adesso entriamo un po nel dettaglio di quella che è l'applicazione quindi lo vediamo direttamente ovviamente l'esecuzione di quella fase lì è una fase tradizionale mi posso utilizzare anche una malta confezionata in cantiere andando inserire delle ps piuttosto che andando inserire dell'atrizio eventualmente può essere utilizzata anche direttamente la malta 772 mur in quanto ha un'ottima adesione sulle ps quindi se mi dovesse servire come strato di incollaggio del della mia del mio elemento in eps posso utilizzare anche già direttamente 722 quindi poi però lo vediamo un po più nel dettaglio successivamente certo fissaggi meccanici allora fissaggi meccanici abbiamo una una linea di viti da da calcestruzzo quindi autofilettanti da calcestruzzo da 6 mm di diametro che si chiamano bsz sk di due lunghezze diverse poi le vedremo e la cosa fondamentale è che tutti gli ancoranti sono sempre già pre accoppiati con una rondella nel caso delle bsz sk da 40 mm in acciaio zincato e una rondella in sbr che vengono utilizzate accoppiate l'altro sistema di quindi questo qua il sistema di ancoraggio che mi serve per andare ad ancorarmi al travetto sostanzialmente quando ho calcestruzzo al travetto piuttosto che alle travi di cordolo tutti i supporti in calcestruzzo questo invece è kps fast sono dei connettori con tassello in nylon che hanno delle lunghezze molto più elevate sono dei fi 10 quindi sono anche più grossi a livello di diametro hanno delle lunghezze che vanno da 18 a 30 centimetri perché sono dei anche loro sempre pre accoppiati con le due rondelle però che questo invece è il sistema che mi permette di andare di oltrepassare la pignata e andare ad ancorarmi alla parte in calcestruzzo al di sopra della pignata entrambi questi sistemi sono rigorosamente marcati CE quindi hanno un certificato ETA che è sostanzialmente quello che mi garantisce le prestazioni del mio ancoraggio sia in termini di durabilità sia in termini di applicazioni sia in termini di carico quindi questa è la parte fondamentale ovviamente esistono numerosi fornitori magari locali che facciamo attenzione non voglio entrare troppo nel dettaglio ma io direi solo facciamo attenzione del fatto che i tasselli che vado a utilizzare siano marcati CE nel modo corretto perché questo è l'unico modo che io ho progettista o committente di essere certo di quelle che sono le prestazioni del prodotto che mi stanno vendendo in generale quindi questo è sostanzialmente l'utilizzo la vite da calcestruzzo la vado a inserire direttamente all'interno del travetto in calcestruzzo qualora ho a disposizione un travetto in calcestruzzo il tassello invece mi vado ad ancorare in questa zona qui e lo vado sostanzialmente a utilizzare adesso lo vedremo in alcuni casi negli ancoranti perimetrali negli ancoraggi perimetrali oppure nei casi in cui non ho accesso diretto al travetto Federico una domanda perché questa parte qua effettivamente è bene chiarirla subito ne sono già arrivate un paio di domande in tal senso quando utilizzi il sistema quello RM2 fondamentalmente con la prima mano di Malta tu vai a coprire quelle che sono pignate e travetti ci chiedono come andare ad individuare dove fissare il tassello e di conseguenza che tipo di tassello andare ad utilizzare come si procede certamente allora poi dopo in fondo vedremo un caso applicativo completo quindi proprio dall'inizio alla z dall'inizio alla fine e quindi lo vedremo però in quel caso lì avevamo effettivamente i travetti a vista allora se non ho i travetti a vista quindi nel caso in cui ho fatto il sistema RM2 quindi la prima mano del sistema RM2 o anche nel caso in cui io non voglio rimuovere l'intonaco perché per ora non siamo ancora entrati nel dettaglio ma il nostro sistema non richiede di rimuovere per forza l'intonaco io posso anche decidere di mantenerlo quindi mi ritrovo diciamo nella stessa identica situazione io devo andare a fare ovviamente mettiamoci nel caso in cui ho un intonaco solo in alcune zone ho avuto lo sfondellamento ripristino quelle zone lì poi lo vedremo e vado a tracciare mi serve andare a tracciare per forze travetti quindi mi serve un pacometro in qualche modo quindi devo andare a capire dove ci sono i ferri e traccio i travetti nel caso in cui io debba mettere la malta semplicemente i travetti me li traccio a muro quindi me li porto a muro me li tiro giù me li segno sul muro e quindi di conseguenza una volta che ho applicato la malta io gli allineamenti dei miei travetti ce li ho già e quindi posso procedere con la tassellatura questa comunque è una domanda assolutamente pertinente per quanto riguarda la domanda che è arrivata che così la depeniamo subito era quella se il sistema quindi si può posare cioè si può intervenire anche sull'intonaco perché dicevano dalle foto fai sempre vedere però anche questo hai dato perfetto la risposta allora lasciami un attimo solo definire due ancora un paio di questioni sul sul tassello poi vediamo proprio gli schemi applicativi possibilità applicative e tutto quanto lo svisceriamo ogni dubbio quindi questo qua è il tassello il tassello come vi dicevo ha una rondella in acciaio e una rondella in sbr la questo qui è sostanzialmente la la dimensione dei 40 mm che è che è la rondella che è il diametro della rondella sulla rete vedete che il tassello va a prendere praticamente un intero un intero quadrato di rete passatemi passami il francesismo e quindi vado a prendere sostanzialmente quasi 4 prendere sempre quattro nodi la rondella in sbr ho dato questa rete qua già un'elevatissima stabilità del nodo la rondella in sbr mi aiuta a stabilizzare ulteriormente perché si va a deformare all'interno di questi spazi e quindi il nodo me lo stabilizza in modo perfetto oltre a stabilizzare il nodo mi salvaguarda la rete dall'essessivo serraggio ed evita il tranciamento della rete nel momento in cui inizio ad applicare lo sforzo poi lo vediamo nei nella parte dei delle della della ricerca politecnico che abbiamo fatto applicazione del sistema quindi eccoci qua partiamo da da zero o questo o un caso in cui ho anche il travetto ammalorato poi nella documentazione tecnica nella scheda di sistema c'è tutta la procedura in modo molto dettagliato quindi normalmente può capitare che la goccia che fa traboccare il vaso sia proprio l'espulsione del copriferro del travetto che poi mi fa sfondellare la pignata quindi capita spesso non sempre capita spesso di avere anche questa situazione qua quindi sostanzialmente cosa faccio in primo luogo vado a ripristinare il travetto ammalorato che tra l'altro in questo caso qua aveva una forma per via della per via della pignata me lo vado a ricreare nella forma che mi interessa a me quindi lo vado a creare bello planare con la mia malta da ripristino qua abbiamo un esempio quindi gli vado a mettere mi pulisco rimuovo tutto il calcestruzzo in distacco pulisco le armature vado ad applicare il mio passivante per le armature poi faccio un il ripristino del travetto il ripristino del travetto io qua ho riportato una nostra malta che è il sicarep che è un r3 che normalmente per i calcestruzzi di questo tipo qua è diciamo l'ideale quindi una volta che ho ripristinato il travetto mi vado a riportare nella condizione in cui il travetto non si era deteriorato quindi sostanzialmente siamo ci riallineiamo a questo caso qua in questo caso qua ho due possibilità io ho come obiettivo il ripristino della planalità del supporto in ogni caso io comunque devo prima di mettere il mio il mio sistema devo avere un supporto planare quantomeno a non perfetto ma quantomeno abbastanza planare quindi in base alle condizioni dell'intonaco io decido se mantenere l'intonaco e ripristinare solo le pignatte sfondellate quindi vado a ripristinarlo con tecniche tradizionali molto le più economiche che che mi vengono in mente in modo da tenere bassi costi e oppure vado a rimuovere l'intonaco e di conseguenza vado a rimuovere tutto l'intonaco e ripristino le pignatte sfondellate questo di destra è proprio il case study che poi vedremo successivamente l'intonaco si staccava ci si poteva infilare la spatola e veniva giù venivano giù metri quadri di intonaco di conseguenza in quel caso lì è stato è stato valutato che non aveva senso cercare di tenerlo su non ci sarebbero stati particolari problematiche perché poi nel momento in cui vado a mettere i miei tasselli veramente fisso tutto quanto e il peso dell'intonaco lo tengo su senza problemi ma non ha proprio senso andare a fare ad applicare un sistema su qualcosa che sia assolutamente completamente in distacco quindi cerco di evitarlo cerco di ridurre i pesi che gravano sul mio solaio in questo caso è stato molto più semplice andare a rimuoverlo se io mantengo il mio intonaco devo solo fare attenzione a una cosa che ovviamente è prassi normale prassi devo andare a rimuovere ovviamente la pittura quindi con un sistema di levigatura vado a rimuovere la pittura ed eventualmente la finitura se la finitura fosse effettivamente molto molto debole quindi l'ideale sarebbe riuscire ad arrivare alla superficie dell'intonaco in alcuni casi la finitura è addirittura più più resistente dell'intonaco quindi in quel caso lì mi lascio pure sulla finitura però diciamo che la cosa importante è ovviamente sempre andare a cercare di rimuovere quella che è la pittura stessa perché nel momento in cui devo andare ad applicare qualcosa di cementizio di sopra non ha senso andare a applicarlo sopra una pittura questo facciamo finta che sia un locale da 8 per 5 metri circa questi sono i miei tamponamenti i miei muri e questi qua sono i miei travetti quindi orditi in direzione sostanzialmente verticale nella slide l'applicazione della rete la faccio sempre in modo in direzione trasversale rispetto al spero che si veda è un grigio un po' basso la faccio sempre in direzione trasversale rispetto al mio travetto non è possibile applicarlo in direzione longitudinale perché non mi ritroverei poi con i fissaggi meccanici andiamo a vedere cosa succede in un angolo di questo di questo solaio allora il mio il mio interasse dei miei travetti sarà da 50 da 60 normalmente quindi se l'ho appignata da 40 avrò circa 50 di interasse se l'ho appignata da 50 avrò circa 60 di interasse quindi questo qua è il muro di base e il muro diciamo parallelo all'orditura del solaio inizio ad applicare la mia rete da un angolo e procedo verso il resto della stanza andando ad applicare siamo nel caso penso che avete già capito siamo nel caso dell'applicazione a secco della rete quindi vado a fissare direttamente la mia rete con due dei miei dei miei ancoranti previsti dei miei fissaggi meccanici previsti la rete ha una larghezza di un metro e poi vado ad applicare il la rete successiva lo svolgimento successivo con attrettanti due fissaggi perché in questo modo vado a fare anche il fissaggio di sovrapposizione che è ovviamente fondamentale se l'avessi fatto in precedenza non potrei più fissargli sopra il secondo rotolo la lunghezza di sovrapposizione è un parametro estremamente importante perché poi l'abbiamo visto nella campagna di sperimentazione influenza la resistenza finale del mio sistema quindi devo garantire almeno 10 centimetri e di conseguenza il passo dei tasselli viene da 7 perché da un lato avrò il passo fisso del travetto di conseguenza o i miei 50 o i miei 60 sono quelli e dall'altro devo mettere tre tasselli su un metro di rete quindi un metro di rete meno 10 centimetri di sovrapposizione fa 90 e quindi il mio passo sarà divido questo 90 per 2 ottengo il mio passo dei tasselli quindi sarà 50 circa per 45 questo sarà il passo dei tasselli una richiesta relativa forse alla misura che non so se andrei a dire ma non c'è qua ci chiedono se c'è una misura minima della larghezza del travetto per garantire la distanza dai bordi del travetto del fissaggio una misura minima quindi c'è una larghezza minima del travetto di modo da garantire quella che è la distanza minima dai bordi del fissaggio che è presente nella scheda tecnica del tassello allora il tassello noi l'abbiamo scelto per questo tipo di fissaggi normalmente vengono usati dei fiotto in generale dei fiotto dei diametro 8 mm perché vengono quasi sempre utilizzati dei tasselli nylon da 8 mm noi abbiamo scelto di utilizzare delle vite in calcio istruzzo da 6 quindi riducendo al minimo il diametro della vite per una questione di applicazione lo vedremo dopo ma anche per una questione di superire meglio ai a quelle che sono diciamo dei travetti dei travetti fini sostanzialmente quindi di conseguenza quelli che sono le le dimensioni standard intorno agli 8 cm è ovviamente quello che è il riferimento 8 10 è riferimento normalmente poi nel caso ci fossero dei travetti particolarmente più fini possiamo anche diciamo analizzarli caso per caso e capire effettivamente quella che è la soluzione migliore se magari utilizzare dei tasselli passanti ad esempio in generale un metodo di prova molto semplice molto efficace è appenderci dei sacchi mi metto su un po' di tasselli mi appendo un po' di sacchi nel momento in cui io riesco ad arrivare a 100 kg a tassello o o molto di più di quello che è la prestazione richiesta ho già quattro volte quella che potrebbe essere la prestazione richiesta al tassello stesso quindi visto che ti ho interrotto scusami ne approfitto perdonami ma sono tante cerchiamo di dare spazio ad alcune già adesso posso usare questo sistema con solai di tipo varese quindi dove la distanza tra i travetti è maggiore anche un metro allora la cosa importante è che anche un metro potrebbe essere fattibile e in quel caso lì potrebbe aver senso andare ad aumentare il passo nella direzione parallela quindi andare a portare a dividere il 90 per 3 andare a mettere ehm ehm quattro quattro tasselli per ogni per ogni vite per ogni sì per ogni vite per ogni eh larghezza di 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 rete quindi si può si può valutare ehm poi vedremo le prestazioni che abbiamo ottenuto con il sistema base quindi secondo me si capirà anche quelle che sono appunto i margini perché stiamo parlando di veramente coefficienti di sicurezza estremamente elevati quindi c'è margine c'è sicuramente margine ehm ovviamente non si può non si può testare qualsiasi tipo di di solaio noi la parte di di test l'abbiamo fatta su dei solai diciamo standard per avere delle prestazioni su dei solai standard ma le prestazioni che abbiamo ottenuto sono veramente estremamente elevate quindi di conseguenza si può valutare ehm si può valutare poi anche delle soluzioni diciamo ad hoc ehm ecco quella cosa posso proseguire o hai altre domande? Sì sì però prosegui prosegui stanno arrivando altre domande ma intanto prosegui su questo aspetto dai. Allora ehm il muro allora quello che è il ehm il sistema di fissaggio poi perimetrale potrebbe capitare che io ad esempio non ho un ehm un tassello no non ho il travetto e eh di conseguenza ho posso aver bisogno di utilizzare un tassello diverso quindi in questo caso ad esempio è appunto un esempio in cui posso dover utilizzare un 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 tassello passante invece che il sistema che si fa collegare direttamente al al travetto stesso. Eh quindi in questo caso qua posso andare a utilizzare eh BSZ SK per eh tutti gli tutti i fissaggi d'area e poi in alcuni casi mi può capitare di dover andare a mettere il tassello passante quindi in questa zona qua. Quindi utilizzo il KPS Fast. Quindi KPS Fast è nasce in primo luogo come sistema eh integrativo del 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 fissaggio su travetto. I fissaggi perimetrali avranno le stessi gli stessi passi dei fissaggi ehm dei fissaggi ehm dei fissaggi d'area sostanzialmente quindi 50-60 normalmente e 45 invece nella nell'altra direzione. Eh quello che è importante per in questo sistema qua da far notare che noi non avevamo bisogno di eh di eh di angolari quindi di conseguenza io non vado mai a toccare l'intonaco della muratura. Quindi se io non dovessi toccare eh l'intonaco della muratura non non ho l'ancora non ho non essendo costretto a mettere l'angolare posso perfettamente lasciarlo così com'è andare a trattare solo l'intonaco del 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 soffitto ecco. Ehm questo è il sistema lo schema applicativo dei fissaggi attraverso Pignatta quindi con i KPS Fast io posso nel caso in cui non ho accesso direttamente al al travetto questo potrebbe essere anche un caso eh in cui ho magari reputo che i travetti hanno un passo troppo elevato quindi i miei cento hanno un passo cento posso anche valutare eventualmente di andare a mettere un fissaggio eh un fissaggio standard e un fissaggio ehm attraverso Pignatta. La cosa fondamentale ovviamente in questo caso qua è di avere il getto integrativo al di sopra in alcuni casi se se non c'è quel getto integrativo lì bisogna studiare un attimo una una soluzione ad hoc però eh in generale la il KPS Fast mi dà tutta la versatilità di cui ho bisogno per superire alla mancanza di travetti comunque ovviamente i travetti ci saranno ma al alla non accessibilità del travetto piuttosto che a un passo di travetti troppo elevato. Allora è importante fare in questo caso delle prove delle prove di applicazioni preliminari in modo da capire qual è effettivamente la lunghezza del del tassello in nylon corretta e in generale il consiglio è sempre quello di presidigere poi i fissaggi su travetto perché normalmente sono quelli più semplici più economici più facili da realizzare in generale. Eh BSZSK 6x80 abbiamo quindi la vite da calcestruzzo abbiamo due lunghezze perché perché nel momento in cui ho un travetto come questo quindi ha perfettamente a disposizione il travetto o la parte in calcestruzzo a vista oppure ho anche in questo caso il calcestruzzo senza un fondello e un intonaco relativamente diciamo fine non particolarmente spesso posso andare direttamente con il la vite da 80. Se invece mi trovassi nelle condizioni in cui ho il fondello della pignatta eh il fondello del del travetto eh parte della pignatta appunto che mi va a contenere il getto del del travetto piuttosto che degli spessori di intonaco estremamente eh elevati posso utilizzare la rete da 120 all'incirca io ho bisogno che la mia vite entri un 5 centimetri all'interno del 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 nucleo sano del calcestruzzo quindi di conseguenza in questo caso qua ho 7 centimetri a potermi giocare. Eh la sperimentazione Politecnico di Milano eh brevemente è stata fatta eh siamo vado vado perché sennò finiamo tardi come al solito eh Sica 6 ferre quindi provini scala reale eh abbiamo fatto dei provini come in queste con queste dimensioni qua che potete vedere con quattro travetti e tre allineamenti di pignatte in cui siamo andati a togliere la pignatta centrale l'abbiamo sostituita con un pannello in legno su cui è stato applicato il carico eh del martinetto. Ehm questa è una fase eh durante la fase di carico del di esecuzione della prova eh qua si può vedere appunto come si va a deformare sostanzialmente il la la rete la 350 G grid e questa è la è la rottura. quindi con delle delle deformazioni molto elevate eh e soprattutto abbiamo notato che con grande anche stupore che il meccanismo allora non abbiamo niente di non abbiamo nessun materiale duttile qua dentro eh la fibra di vetro è rinomata per essere come tutte le fibre lunghe eh elastiche fino a rottura quindi sostanzialmente eh è un materiale di per sé fragile. Ehm però la conformazione del del sistema col tassello eh con la con la con la con la rondella in SBR e la la conformazione della rete ci ha permette ci permette sostanzialmente di avere un meccanismo che possiamo definire tra virgolette duttile perché la rete inizia a rompere eh gli orditi uno alla volta eh ridistribuendo i carichi quindi avendo comunque un sempre un aumento del carico eh e una deformata estremamente elevata quindi di conseguenza questo mi permette di a rendermi conto che c'è qualcosa che non va e poi soprattutto c'è anche un segnale acustico molto forte dato dalla rottura ehm del dell'ordito che che dà un eh un segnale molto forte quando quando si rompe un ordito senti proprio un un rumore molto forte che ti dà assolutamente la coscienza del fatto che sta succedendo qualcosa ehm questo anche se dovesse avere rivestito il mio sistema con un controsoffitto quindi non è più a vista ehm poi vedremo i risultati perché tutto questo poi va va considerato nel con i risultati che abbiamo ottenuto eh SICA6RM invece quindi quello con la malta in questo caso qua abbiamo gettato il abbiamo proprio gettato anche il sistema perché altrimenti non avrebbe retto i carichi a cui siamo arrivati eh e questo è sostanzialmente la rottura sì questa qua è la rottura del dell'elemento eh la parte molto importante appunto vi dicevo mi tengo in tasca la questione delle fibre lunghe eh il fatto di avere le fibre lunghe mi permette mi ha permesso anche in questo caso di avere un comportamento eh anche in questo caso passatemi il termine duttile eh anche se non è il termine il termine corretto perché non stiamo parlando di utilità di un materiale ma stiamo parlando di un meccanismo e eh e soprattutto non non ha eh in terra peccato che non ho la foto non c'era nessun pezzo di malta quindi non c'è alcun distacco fino io arrivo a rottura arrivo a collasso del sistema e prima del collasso non ho assolutamente alcun distacco e invece a fronte di invece grosse deformazioni che invece mi aiutano ovviamente a rendermi conto che sta succedendo qualcosa ehm questi sono i carichi che abbiamo tenuto come vi dicevo qua possiamo apprezzare sostanzialmente questa qua è la prima rottura del primo del primo ordito e poi la salita sostanzialmente del 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 grafico questi questi sbalzi sono le le rotture dei vari orditi quindi si vede proprio una ehm una crescita del carico con del localmente delle rotture e delle ridistribuzioni del carico il questo questo campione qua rosso è stato fermato a una deformazione che pensavamo essere quella definitiva in realtà poi ci siamo resi conto che eh se l'avessimo fatto andare avanti con molta probabilità si sarebbe comportato come il come il come il suo fratello blu ehm che invece l'abbiamo portato abbiamo stoppato la prova in questo caso a circa 16 centimetri di deformata invece siamo arrivati poi fino a 20 20 e passa eh questo invece è il caso del sistema Sica6RM eh eh questo è l'RM2 quindi quello che ha a ok carico di rottura che abbiamo ottenuto e sono circa 300 chili ehm quindi siamo arrivati a circa 3 chilo newton per pignatta noi stiamo parlando del carico per una pignatta quindi sostanzialmente 300 chili per una pignatta ehm e invece nel caso del sistema RM siamo arrivati a circa 900 chili se noi consideriamo il fatto che stando larghi il carico di rottura che potrei avere per una sola pignatta sono circa 10 chili 9 10 chili eh fate voi vi lascio fare voi il calcolo del del fatto di sicurezza di questi sia del sia dell'R sia dell'RM, l'RM addirittura abbiamo cento volte quello che è il carico che mi posso aspettare per la rottura della pignatta quindi dopo che abbiamo ottenuto questi calcoli abbiamo ottenuto questi carichi ovviamente ci siamo resi conto di quello che era le potenzialità del sistema che sono estremamente elevate. Quindi infatti le prestazioni noi allora non esiste per quanto riguarda il sistema di sfondalamento una normativa di riferimento l'avremmo seguita eh alla lettera se ci fosse stata a disposizione quindi noi abbiamo deciso di quindi se non c'è una normativa di riferimento per come eseguire i test va fatto una ehm qualcosa di sperimentale quindi ci siamo ehm affidati al Politecnico e abbiamo svolto la campagna di prove insieme a loro quindi le prove sono state testate al Politecnico che è sicuramente un sintomo di ehm sicurezza e eh professionalità abbiamo la possibilità di avere anche il sistema secco quindi oltre a quello con la malta ma l'abbiamo già visto le due tipologie di fissaggio che quindi mi rendono un po' più ehm che mi rendono versatile l'utilizzo il ridotto diametro del foro di cui ne abbiamo già un po' parlato prima ma fondamentalmente la parte fondamentale è quello che mi permette di ridurre drasticamente l'affaticamento dell'operatore che va a fare i fori per i tasselli un conto se faccio un foro da otto e un conto se faccio un foro da sei ehm quindi di conseguenza aver ridotto questo foro qua ci ha permesso di ridurre drasticamente quelle che è appunto l'affaticamento dell'operatore che è sempre eh la condizione più critica a livello di appunto affaticamento più più di fare il tassello più di eh avvitare il tassello con l'avvitatore eh e poi la rete ha dellevatissima resistenza a trazione che ci ha permesso ovviamente di avere quelle performance lì l'RM quindi quello con la malta appunto frattazzabile l'abbiamo già detto prima l'elevatissima adesione della malta che ci permette appunto di fare un'applicazione in unica mano sopra la rete e di ridurre i consumi della malta ehm e basta direi che poi tutte le altre cose le abbiamo già già viste andiamo a vedere brevemente quello che è il case history quindi eh un cantiere in cui abbiamo seguito eh per di sicuramente fase per fase e possiamo appunto eh vedere capirci un po' di più per quella che è la fase la fase applicativa eh abbiamo un solaio latero cemento in cui appunto come già dicevo prima è stato rimosso l'intonaco perché era proprio in fase di distacco eh molto forte eh sono state ripristinate le pignatte sfondellate come vedete qua in questo caso qua sono state ripristinate con una malta eh confezionata in cantiere e andando a mettere all'interno del dei pezzi di laterizio quindi l'impresa ha gestito questa cosa autonomamente eh e poi abbiamo iniziato con la posa del sistema ovviamente la prima cosa che faccio è faccio il tracciamento dei 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 45 centimetri per la posa dei tasselli allora come dicevamo prima in questo caso qua io ho già ho il fondello del travetto quindi io so già dov'è il travetto quindi questo allineamento ce l'ho già se io avessi l'intonaco se avessi avuto l'intonaco oppure se avessi dovuto fare la appunto la la malta quindi rendere opaca questa parte qui eh mi sarei dovuto segnare in questa zona qua l'allineamento di questi di questi travetti in modo che poi una volta eh applicata la malta posso rifare questo tracciamento qua rifare questo tracciamento qua e ho trovato perfettamente la localizzazione del tassello da andare a mettere ehm in questo caso qua noi l'abbiamo fatto a 44 semplicemente una piccola una finezza per dire ok almeno siamo sicuri in ogni caso di eh garantire la lunghezza di sovrapposizione della rete e questa qua è l'esecuzione del tassello quindi eh l'esecuzione del del foro di fissaggio del tassello eh punta lunga da sei e l'operatore ha iniziato a fare tutti i fori in eh concomitanza appunto della 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 tracciatura dei 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 fori ehm si è appunto come vi dicevo prima si è rivelato essere poi la ehm condizione più gravosa a livello fisico infatti quello che quella l'operatore che era davanti a fare le ehm i fori chiedeva spesso poi il cambio a un altro operatore che invece stava applicando il sistema e per poter diciamo muoversi all'interno della squadra poi vedremo anche brevemente quelli che sono i numeri di una squadra ideale per poter fare l'applicazione allora eh qua era stato fatto già la foratura di una parte del del solaio e è stata successivamente tagliata sono stati tagliati i rotoli di rete con la lunghezza corretta quindi in modo da averli pronti averli pronti tutti quanti lì eh contati per essere pronti nel momento in cui vado a fare l'applicazione questa è la fase di assemblamento del tassello qua potete vedere la vite di SZSK da 12 centimetri 6 mm di diametro 12 centimetri che viene assemblata con le rondelle quindi metto prima la rondella in acciaio poi la rondella in SBR che deve andare ovviamente a contatto diretto con la rete bagnatura del supporto quindi prima di mettere ancora la rete in realtà l'avevamo già fatta anche è stata fatta già anche la sera prima quindi più ne faccio di bagnature meglio è dato che il supporto è estremamente assorbente prima di andare a mettere la rete abbiamo fatto un'ultima bagnatura in modo da poi non bagnare la rete quando quando una volta applicata e poi abbiamo iniziato ad applicare la il sistema quindi eh tutto già forato eh tutto già bagnato e applicazione dei tasselli con con l'abitatore la cosa fondamentale è utilizzare un abitatore noi diamo delle caratteristiche dell'abitatore minime eh consigliate serve un abitatore professionale perché diventerà diventa uno strumento fondamentale che lo si fa che lo si usa veramente tantissimo e soprattutto deve avere delle coppie di serraggio molto elevate perché devo mi deve permettere di riuscire a chiudere con facilità tutte le viti senza stare lì a perderci tempo quindi la scelta dell'abitatore è sicuramente fondamentale questa qua come vedete ci sono i primi due eh tasselli applicati con la rete eh che scende e eh il fissaggio del della seconda del secondo passaggio questo è l'applicazione del tassello sul nella zona di sovrapposizione eh quindi di almeno dieci centimetri come dicevamo prima e questa è poi l'applicazione del terzo strato e così via eh quindi questo è poi la corretta esecuzione vedete che la la rondella in sbr si va a deformare all'interno uno degli spazi della rete e mi crea il fissaggio perfetto e eh quindi bisogna avere come già dicevo prima una coppia di serraggio dell'abitatore che mi permetta di chiudere correttamente la mia la mia il mio tassello addosso la rete facendo deformare appunto la la rondella questo è il sistema applicato ehm per quanto riguarda i eh gli ancoraggi d'area mancano i questa zona qua perché qua avevamo il travetto quindi questa zona qua perimetrale è stata fatta direttamente con le viti manca questa zona qua che invece è l'altra la l'altra parte perimetrale allora in queste zone qui in cui ho il travetto perpendicolare ho sempre la possibilità di avere il un'applicazione del 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 fissaggio perimetrale il problema mi si può porre solo quando ho delle tramezze o dei muri di tamponamento eh paralleli ai miei travetti e di conseguenza in questa zona qua infatti non avevamo la ehm non avevamo il travetto ecco perché ecco ecco che abbiamo utilizzato il sistema KPS questo qua lo vediamo composto appunto sempre con le sue due rondelle e questa è l'applicazione attraverso la pignatta del sistema questo quindi l'inserimento il foro è in questo caso viene fatto e deve essere da dieci centimetri da dieci millimetri di diametro e poi vado ad avvitarlo sempre con il con l'avvitatore e qua possiamo vedere che in questa zona qua c'è l'allineamento dei fissaggi del travetto e in questa zona qua invece dove non c'è il travetto c'è l'allineamento dei fissaggi con KPS fast applicazione della malta eh in questo caso mh era necessario eh era era è un ambito residenziale quindi serviva poi una finitura civile quindi di conseguenza è stata applicata la malta prima prima applicazione solo di una sola mano di malta con sta facendo molta attenzione in questa fase qua a schiacciarla bene eh addosso al supporto in modo che riesca a passare bene attraverso i fori e mi crei adesione col supporto ecco perché avevamo bagnato ovviamente il supporto proprio per renderlo eh idoneo all'applicazione della malta se io ho se io ho un sistema a secco io qua mi ero già fermato avevo finito completamente non avevo bisogno nemmeno di bagnare ehm questa è l'esecuzione della della malta quindi eh l'applicazione della malta e questo è poi il sistema di per sé ultimato quindi abbiamo finito successivamente poi qua è stata applicata una rasatura bianca per ottenere poi l'effetto civile e quindi poi la tinteggiatura grazie per l'attenzione spero di non essermi dilungato troppo ma allora no direi che con l'orario ci siamo perfettamente allora come ti anticipavo sono arrivate tante domande allora molte erano dello stesso sullo stesso argomento fondamentalmente quindi ho cercato un pochino di raggrupparle eh tra l'altro poi nello svolgersi della presentazione mi sono reso conto che molte cose le sei andate a toccare anche senza la domanda eh perché diciamo sono arrivate subito domande relative alla lavorazione io adesso qualche domanda chiaramente te la faccio eh molte cose come dico alcune delle cose dai non molte le hai già trattate però magari vale la pena spenderci di nuovo qualche parola perché nel momento in cui sono arrivate tre quattro domande in reti quell'argomento magari qualcosa in più si può eh si può spendere ehm allora partiamo da da problematiche eh molto puntuali per esempio ci chiedono eh quando il cedimento è nei travetti che trascinano nella caduta anche l'atterizio l'ancoraggio proposto è ancora valido? Sì perché quello che è il cedimento del travetto è il se cede il travetto cede il copriferro del travetto perché il perché il il ferro il ferro inizia a corrodersi quindi di conseguenza ehm prodotti della corrosione hanno un volume maggiore del ferro e di conseguenza ho l'espulsione del copriferro eh non non ho motivo per cui eh mi si debba ammalorare diciamo più in profondità anzi se mi si ammalora in in più profondità non ho niente da 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 mettere in sicurezza perché mi viene giù il solaio mi è già venuto giù questo raio lì quindi ehm la problematica si pone appunto è quando ho appunto il se c'ho il travetto di mezzo è perché ho una un'espulsione del copriferro quindi ehm nel momento in cui ho un'espulsione del copriferro quindi ho ripristinato il travetto la malta di per sé diventa un una parte anche in realtà più più resistente del 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 calcestruzzo stesso la malta da ripristino in quel caso lì è comunque consigliato utilizzare la la vite da dodici da dodici centimetri in modo che mi tolgo qualsiasi dubbio e mi vado ad ancorare comunque il nucleo del 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 travetto se io non ho più un nucleo del travetto non ho più il solaio certo allora un'altra domanda sempre di un caso specifico supponiamo di avere i travetto del solaio con fondelle in laterizio eppure questi sfondellati e con i ferri di armatura a vista come mi comporto in questo caso mi comporto come come quello che abbiamo visto sostanzialmente andrò praticamente ad incrementare un po' lo spessore della malta da ripristino quindi faccio l'intervento di ripristino aumento un po' di più lo spessore della malta da ripristino in modo da ripristinare non solo il travetto ma ripristinare anche lo spazio che era prima diciamo occupato dal fondello quindi mi riporta una condizione di planarità semplicemente vado a scegliere una malta che sia idonea a fare lo spessore corretto e oltre aver dato anche un copriferro maggiore quindi anche una protezione maggiore dei ferri mi riesco ad ottenere mi riesco a ricreare la mia planarità e quindi poi andare ad applicare il travetto e sì il travetto il fissaggio perfetto tanto stavo leggendo altre domande che stanno arrivando allora torniamo un attimino invece a quelle che sono già arrivate allora come si fa a pulire le armature nella parte superiore allora da manuale l'armatura andrebbe liberata completamente nel suo perimetro perché in teoria dovrei poter andare a rivestirla completamente col passivante quindi l'intervento di ripristino diciamo giusto corretto teoricamente corretto sotto l'aspetto della protezione del ferro prevede il fatto di rimuovere anche quel calcestruzzo anche quella parte di calcestruzzo in modo da poter trattare tutto il ferro sicuramente questo dipende tanto anche da dalla profondità di carbonatazione che ho quindi sono profondità di carbonatazione molto bassa il calcestruzzo che ho dietro la mia armatura è ancora alcalino quindi di conseguenza la zona che rimane a contatto rimane passivata e soprattutto non devo avere diciamo che questa la prassi è importante ovviamente devo anche un attimo discernere quelli che sono i casi in cui è bene che io vada effettivamente a fondo o meno soprattutto nel caso in cui ad esempio cloruri però qua adesso entriamo proprio nella ripristino del calcestruzzo ovviamente se io ho dei cloruri ad esempio che hanno un tenore che ha quattro centimetri di profondità hanno un tenore critico più alto di quello che è il tenore critico dai 0 4 per cento in peso che normalmente è il tenore critico con cui potrebbe può avvenire la corrosione devo rimuoverlo tutto quel calcestruzzo lì e ripristinarlo in modo da ripristinare la passività quindi devo un attimo valutare caso per caso la risposta ufficiale sarebbe devi rimuovere completamente quel calcestruzzo e trattare tutto bene il ferro non è sempre possibile lo sappiamo bene e la parte fondamentale ovviamente è trattare bene le armature a rimuovere la corrosione gli ossidi che mi sono creati in modo da avere un'ottima adesione col passivante sulla sull'armatura stessa e poi poter applicare la malta in sicurezza per le tecniche le tecniche sono l'ideale è una sabbiatura l'ideale in assoluto una sabbiatura non è sempre possibile quindi posso anche utilizzare le tecniche manuali che ovviamente danno dei risultati un po più scarsi ma in caso di applicazioni diciamo contenute non posso fare altro che 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 intervenire con tecniche manuali ok anche questo l'avevi forse già accennato però lo brevemente trattiamo se lo sfondellamento del solaio dovesse essere parziale è necessario rimuovere anche la parte non ammalorata o si può intervenire solo sulla parte di solaio interessata del fenomeno non è non è necessario rimuovere la parte non ammalorata il mio obiettivo ovviamente è di ripristinare la planarità prima della posa del sistema in modo che io possa non tanto perché il sistema ha bisogno di una planarità particolare ma perché nel momento in cui ho ripristinato la planarità poi posso anche sfruttare un consumo più basso della malta da 722 quindi comunque faccio sto facendo una lavorazione più economicamente sostenibile e anche più semplice da fare quindi devo ripristinare la zona ammalorata rimuovo la pittura perché non mi vado mai ad applicare non vado mai ad applicare una malta sopra una pittura esistente e vado su direttamente allora altra domanda lo sfondellamento dei qui entriamo nel mondo del della resistenza al fuoco definiamo così dai lo sfondellamento dei soldati dei solai avviene anche durante un incendio in questo caso oltre alle pignatte viene anche la disgregazione dei travetti in questo caso come si può intervenire per la ricostruzione dei travetti tenuto conto che non è possibile per motivi economici demolire il solaio aspetta perché ti faccio anche un'altra domanda così esauriamo l'argomento fuoco il sistema lo posso utilizzare con malta e nifuga se sì qual è il raggiungibile allora prima risposta ovviamente nel momento in cui devo fare il ripristino del travetto soggetto a un incendio devo fare una diagnosi dallo stato di fatto e capire quali sono le condizioni del mio calcestruzzo del mio acciaio quindi di conseguenza se poi reputo che rimuovendo un certo spessore di calcestruzzo ho rimosso tutta la parte ammalorata mi posso permettere di fare poi l'intervento di ripristino eventualmente poi posso anche poi entriamo anche nel mondo poi dei rinforzi strutturali quindi posso anche utilizzare in combinazione un rinforzo in carbonio del travetto stesso qualora dovesse aver perso sezione utile dell'armatura e non è caso l'incendio di solito ma giusto per mettere un'informazione in più quindi devo valutare quella che è la condizione del mio calcestruzzo definire fino a che profondità lo devo rimuovere magari non ho bisogno magari invece ne ho bisogno perché mi rendo conto con delle carotature che i primi tot centimetri hanno delle resistenze troppo basse e poi ripristino con la malta quindi di conseguenza questo è l'approccio che posso utilizzare una volta che ho ripristinato con la malta il travetto faccio la stessa cosa per quanto riguarda le pignate sfondellate e di conseguenza poi vado ad applicare il sistema la malta rei il 722 è una malta cementizia non è testata allora la malta rei qua va un attimo fatto un discorso un po più ampio lo sfondellamento normalmente è legato anche all'incendio quindi l'incendio mi può portare allo sfondellamento della mia pignata però normalmente non è contestuale ecco cioè non mi porta al rischio non è più non è un fonte non è un sfondellamento rischioso quello diciamo in quanto non è la temperatura a cui devo arrivare perché la mia pignata mi sfondelli dovuta all'incendio è talmente elevata che non ci può essere della vita all'interno della vita rimasta all'interno del dell'ambiente sottostante quindi di conseguenza se la mia pignata si sfondella è l'ultimo dei miei problemi quindi di conseguenza normalmente non è strettamente legato il sistema sfondellamento e la problematica dell'incendio la problematica dell'incendio potrebbe prendere diciamo in mi può preoccupare il travetto quindi sto parlando perché questo laio lì dovrà avere una r di 60 90 120 in base a quelle che sono le la velocità di deflusso delle persone che stanno al di sopra quindi io con la rei di quella partizione listo tutelando le persone che stanno sopra quel solaio lì non quelle che sono all'interno del compartimento in cui c'è stato il fuoco quindi in quel caso lì io mi devo porre il problema dei miei travetti se non hanno sufficiente protezione al fuoco allora posso andare a utilizzare un sistema di protezione dei travetti che tra l'altro di protezione della struttura del solaio che tra l'altro noi abbiamo anche a disposizione e potremmo e a quel punto lì poi posso decidere di andare a mettere una volta che ho fatto il sistema di antisfondellamento quindi mi sono messo a posto per quando per quello che potrebbe essere lo sfondellamento dovuto al sisma piuttosto che uno sfondellamento normale come potrebbe essere non legato al sisma e poi gli posso andare a fare un rivestimento rei con una malta che mi dà le prestazioni rei di cui ho bisogno r in realtà stavano della struttura della mia compartimentazione perfetto perfetto allora fammi vedere altre domande cambiamo un pochino l'argomento allora partiamo con queste che sono altrettanto interessanti dove si può applicare questo sistema abbiamo visto prima il caso dei solai tipo varese con la luce dei tre travetti di un metro abbiamo non abbiamo affrontato altre tipologie vediamo questi questi sistemi antisfondellamento vanno bene per solai sap allora il solaio sap il problema principale del solaio sap che non ho che non ho accesso al travetto perché il travetto è molto fine e ha delle armature molto congestionate quindi posso utilizzare il sistema passante quindi quello è una delle condizioni in cui non ho accessibilità al travetto quindi devo utilizzare il sistema passante quindi il sistema kps fast e andare ad ancorarmi alla alla caldana armata del solaio stesso ok si può usare il sistema sica safe nei casi di soffitti antichi narelle e gesso allora la cosa in generale la cosa fondata allora è pensato questo sistema pensato principalmente per solai in latero cemento lo posso utilizzare in tutti i casi in cui ovviamente ho dei travetti in calcestruzzo e in tutti i casi in cui ho una caldana armata quindi di conseguenza potrebbe essere ci sono tutta una serie di solai come potrebbero essere anche dei solai gettati sulla mira grecata piuttosto che gettato su assito in legno a quel punto non mi interessa più quello che ho sotto ma mi vado semplicemente a fissare a quello che è il mio getto di calcestruzzo nel momento in cui non ho il getto di calcestruzzo allora le cose iniziano a farsi un po più complicate servirebbe inserire un sistema aggiuntivo di fissaggi che però se il cantine dovesse valerne la pena si può anche diciamo valutare è solo una questione di scegliere il fissaggio corretto poi la possibilità di estendere il sistema anche a sistemi in solo in solo acciaio in realtà non esiste cioè non mi serve nemmeno andare a fare lo sfondellamento anche nel legno comunque i casi sono un po' diversi però in quel caso lì si parla solo semplicemente di scegliere quello che è il sistema di tassellamento corretto la parte fondamentale del sistema è l'accoppiamento tra la rete e la malta e quelle rondelle lì sostanzialmente poi quello che è il mio sistema di fissaggio è abbastanza facile da gestire ok quindi hai parlato di acciaio ci chiedono se esiste un sistema per ancoraggio travi in acciaio miste a tavelloni in questo momento sì però normalmente poi le travi in acciaio con tavelloni spesso hanno anche una caldana lì sopra armata quindi di conseguenza sì nel momento in cui ho la caldana sì perché io trovo il modo per passare per passare il tavellone in base a se è una tavella in base se è un tavellone scelgo il mio sistema in base a la vite da calciestruzzo piuttosto che il kps fast quindi riusciamo a coprire dal 12 fino sostanzialmente ai 30 centimetri per ora poi eventualmente no e quindi nel momento in cui ho un getto al di sopra sì perfetto due professionisti ci chiedono se il sistema può essere utilizzato anche all'esterno l'esempio sono i sottobalconi sì sottobalconi aggettanti anche diciamo certamente può essere usato anche all'esterno ovviamente nel quel caso lì vado ad applicare anche la malta quindi almeno il sistema rm 1 eventualmente oppure il sistema rm 2 però utilizzo il sistema rm quindi sempre con la malta perché vado a proteggere la rete di per sé non ha particolarmente bisogno di essere protetta perché comunque la fibra di vetro non ha particolari problemi per quanto riguarda l'esposizione raggio b ma in quel caso lì è necessario andare a utilizzare anche la malta perché ho un sistema di protezione migliore perfetto vado avanti con le domande allora volevo chiedere se la rete in fibra di vetro viene venduta in rotoli interi o anche in sottomisure quanti metri lineari è il rotolo il suo costo allora al costo magari poi entriamo un po più nel dettaglio di solito la domanda finale no con cui chiudiamo i costi di interventi quindi già te l'ho anticipata così ti prepari allora a livello di fornitura la rete è fornita in rotoli da 50 metri con larghezza da un metro quindi questo è l'imballaggio di fornitura la lunghezza è 50 metri il rotolo è un po quello che abbiamo visto all'inizio avevamo visto qualche immagine quel rotolo lì la mia precisazione sui costi ovviamente per darti il tempo di capire come eludere la domanda in maniera consona allora andiamo andiamo avanti ecco questo è interessante qual è l'incremento medio di carico sul solaio trattato con il sistema RM allora di carico bisogna distinguere perché questo non è un sistema di rinforzo del solaio che poi vada a collaborare è un'altra questione ma non pretende di essere un sistema di rinforzo del solaio quindi io non posso ipotizzare di aumentare i carichi del solaio della struttura del solaio perché vado a mettere questo sistema che poi nella realtà in qualche modo un po' succede ma è difficile da quantificare molto molto difficile da quantificare e soprattutto il sistema non è pensato per quello il sistema è pensato per resistere al carico da sfondellamento quindi il sistema il solaio deve essere di per sé capace di sostenersi da solo strutturalmente se ho bisogno di rinforzarlo abbiamo tutti i sistemi possibili immaginabili in SICA per andare a fare il rinforzo dei travetti ad esempio quello più utilizzato ovviamente sono le lamine in carbonio con cui possiamo andare ad incrementare notevolmente la resistenza del il sistema di rinforzo del solaio con un'applicazione molto semplice e invece questo sistema qua lo uso prettamente per l'antisfondellamento quindi carichi di sfondellamento non abbiamo già parlato e la resistenza carichi di sfondellamento e carichi di sfondellamento sono abbastanza sempre quelli e la resistenza abbiamo visto che è molto molto maggiore ecco mi riallaccia questa precisazione sui sistemi con lamine per lanciare questo messaggio visto che molti ci l'hanno chiesto dove sarà possibile rivedere questo webinar ma io mi riallaccio dicendo che abbiamo tenuto anche un webinar proprio della SICA Italia Web Academy in cui abbiamo presentato quei sistemi a lamine si trovano sul canale YouTube di SICA Italia quindi sicuramente tutti i webinar che abbiamo già tenuto sono già presenti potete andarveli a vedere anche a conclusione di questa diretta quello di oggi giusto il tempo di caricarlo quindi diciamoci inizio prossima settimana potete già tranquillamente trovarlo e rivederlo chiusa questa precisazione ancora qualche scusami una cosa abbiamo fatto abbiamo visto in quel webinar lì anche il software di calcolo quindi il nostro software che ci permette di fare anche il calcolo dell'incremento della resistenza anche del solaio perché permette di fare anche il calcolo sui travetti quindi assolutamente pertinente ok come mi attacco se non c'è la k attraverso perfetto vediamone altre beh allora direi ancora facciamo anche questa su una malta ci chiedono se esiste anche una malta traspirante a base calce utilizzabile in questo sistema no l'ultima l'unica malta che utilizziamo è questa perché è l'unica malta che ci permette di avere prestazioni sufficientemente elevate per un sistema di questo tipo ehm come malte strutturali sì che appunta molto su questo tipo di malta perché nel momento in cui devo andare a utilizzare come nel sistema fersiem qualcosa che sia una matrice cementizia con all'interno una rete eh la malta è la mia la mia parte debole facciamo molta diciamo sempre di fare molta attenzione ad utilizzare malte deboli con reti forti perché io penso di aver messo una rete forte quindi non so magari metto una rete in fibra di vetro con da 500 da 600 grammi al metro quadro metto una rete in basalto metto una rete in carbonio e poi ci metto una malta m10 questa roba qua la malta m10 non è assolutamente all'altezza eh della rete di conseguenza ho un sistema altamente scompensato che io reputo possa darmi certe performance e in realtà me ne dà un terzo non la metà un terzo quindi quello che noi facciamo è nel momento in cui utilizziamo una rete in fibra di vetro come quella che è questa qua da 350 grid la utilizziamo insieme a una malta che sia all'altezza quindi una malta che ha legante cementizio perché è il più prestazionale un alto contenuto di resine all'interno fibre lunghe e un modulo elastico basso tra l'altro se avessimo tempo sarebbe bello metterci qua a discutere di questa cosa qua però siamo abbastanza in conclusione quindi non mi dilungo troppo eh quindi il modulo elastico basso è anche fondamentale proprio per avere un comportamento ehm compatibile con le riformazioni della rete l'adesione è fondamentale perché ci deve essere adesione tra la malta e il rivestimento della malta della 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 rete che è in SBR quindi la l'adesione data dalle resine che ci sono dentro in questa malta permettono di avere un sistema assolutamente eh compensato tra malta e rete eh altrimenti io ho mi si mi si apre in due la malta c'ho dell'aminazione ho scorrimento della rete oppure addirittura dell'aminazione dal primo e dal secondo strato di malta e il mio sistema è praticamente insufficiente questo è soprattutto legato a ai sistemi Fersiem quindi facciamo molta attenzione a non solo scegliere la rete giusta ma scegliere anche la malta giusta ok perfetto questa che ehm è una domanda che ti faccio sempre cioè che ti faccio sempre che faccio sempre quando eh trattiamo questi webinar stavolta non l'ho fatta io è arrivata da un partecipante ci chiedono eh se avete delle imprese specializzate con cui collaborate che possono eh che potete consigliare eventualmente per portare avanti i lavori come questo certamente certamente allora io seguo tutta Italia eh faccio parte del servizio tecnico in comune non sono a contatto diretto con eh tutte le imprese eh i nostri però i nostri uomini sul territorio hanno assolutamente conoscenza eh di quello che sono le le imprese specializzate in loco quindi di conseguenza vi invito tra l'altro poi noi forniremo anche oltre al mio oltre al mio contatto per tutti quelli che sono diciamo i riferimenti tecnici anche forniremo anche i contatti dei quattro area manager che abbiamo in eh in tutta Italia quindi nella nella risposta a questo webinar in cui manderemo anche le eh tutte le risposte per iscritto ci sono anche i loro contatti quindi di conseguenza potete contattare direttamente loro che vi sapranno già indirizzare a a a a un applicatore fiduciario perfetto allora diciamo che siamo arrivati alla domanda fatidica che ti ho accennato prima la prendiamo un po' più larga dai però eh diciamo così proprio la prendiamo come ce l'ha posta al un nostro partecipante in virtù dell'esperienza maturata è possibile conoscere i costi media metro quadro degli interventi proposti? se riesi sulla parola allora ehm io posso dire questo eh abbiamo i allora i costi media metro quadro li possiamo fornire li possiamo fornire però vanno forniti sulla base di quelli che sono sicuramente il costi media metro quadro dei dei materiali sono ci sono tutti ma anche i costi media metro quadro della mano d'opera che non è qualcosa che facciamo noi ma ci siamo ci siamo tutti i giorni a contatto quindi possiamo fornirli per chi dovesse essere interessato e li possiamo fornire anche direttamente la cosa importante ovviamente è fare un minimo di analisi di quella che è il caso applicativo quindi definire i consumi dei materiali e di conseguenza poi possiamo tirar fuori in modo veramente rapido un costo a metro quadro quindi invito chi dovesse essere interessato a questo a contattare appunto i colleghi commerciali che su questo sono assolutamente eh eh il riferimento ehm per quanto riguarda la progettazione del sistema eh ovviamente noi in fase di progettazione di questo sistema abbiamo tenuto in considerazione quello che sono i costi perché ovviamente è fondamentale oltre che a dare un sistema sicuro facile da applicare ma che sia anche economico e quelli che sono i parametri che sono stati tenuti in considerazione sono utilizzare prima di tutto una rete che abbia dei costi contenuti è una rete è una rete in fibra di vetro proprio perché in questi casi qua la fibra di vetro è la soluzione migliore a livello di costi e performance è una rete da 350 grammi quindi è anche un po' più bassa in termini di contenuto di fibra rispetto a ad altri sistemi che ci sono in commercio abbiamo cercato di rendere le performance alte tramite lavorando sui sugli ancoraggi lavorando su eh sull'applicazione del sistema in modo da dare la performance ma e sfruttare sfruttando al massimo quelli che sono i prodotti che andiamo a utilizzare sono state scelte principalmente delle viti da calcestruzzo perché oltre a essere molto pratiche e facili da applicare sono anche la 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 soluzione più economica che possiamo trovare in questo momento come eh fissaggi meccanici e eh anche la scelta della malta non è eh non è a caso in quanto è sì è vero è una malta nobile perché è una malta strutturale ma abbiamo scelto la possibilità di poter fare anche delle applicazioni in basso spessore quindi parliamo di sei sette millimetri totale per il sistema completo che va ad aggiungere meno carico al supporto ma mi va anche a contenere i costi del i costi del sistema quindi ecco queste sono un po' quelli che sono i parametri e il sistema nudo è sicuramente eh la la soluzione più economica che uno si possa possa pensare di andare ad applicare quindi sotto l'aspetto economico ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo siamo posizionati bene perfetto allora direi che eh l'orario è arrivato sta ancora arrivando qualche domanda ma prevalgono i saluti e come sempre dico quando arrivano i saluti i ringraziamenti e eh i complimenti per per il webinar per la trattazione quali mi aggiungo ovviamente eh capisco normalmente che è l'orario di andare a chiudere questa diretta che come sempre eh dura ben di più di un'ora ma vedo che i nostri partecipanti ci seguono fino alla fine quindi eh ci fa molto piacere che anche questa sessione di domande finali è effettivamente seguita e partecipata allora io ringrazio tutti voi per aver partecipato ringrazio te Federico adesso non mi ricordo se ti ritroveremo nel nel programma ehm non a breve però sì non a breve non a breve perfetto allora no va bene insomma mi fa piacere perché eh in virtù della preparazione che hai eh diciamo è sempre portato un po' di 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 informazioni in più e di ottime risposte ai professionisti troveremo però il tuo collega la prossima settimana che è Alessandro Negrini eh perché torniamo a parlare di 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 sul nostro canale Eventbrite trovate già tutto per chi fosse interessato trova appunto lì tutti gli argomenti quali iscriversi quello più prossimo e quello della prossima settimana mercoledì 27 sempre alle 5 quindi nuova veste pomeridiana parleremo di flooring applicato al mondo delle aree industriali quindi fondamentalmente degli spazi industriali. Detto questo l'orario è quello con cui vi auguro al solito un buon aperitivo una buona cena una buona serata pertanto io vi saluto lascio la parola a te per un ultimo saluto Federico. Sì grazie mille vorrei aggiungere che io vengo da Bergamo quindi alle 7 noi di solito mangiamo. Adesso andando a Milano ho dovuto dilatare i miei tempi alle 7 neanche ti sei messo a fare l'aperitivo. Ecco. Grazie a tutti a presto. No ma anche io lo dico per gli altri io bimbi piccoli anche io tra poco mi metto a tavola devo essere sincero. Grazie a tutti alla prossima. Ciao grazie.